Il settore vitivinicolo è protagonista in questo, a garantire la manutenzione del territorio, quella scultura del territorio che avviene con il lavoro prezioso degli agricoltori, che viene messa in discussione per l'appunto dalla crisi idrica che spesso, non in fase emergenziale, ma spesso ormai da almeno un ventennio colpisce le aree del nostro Paese. Per fortuna quest'anno la situazione legata alla siccità colpisce molto di più alcune regioni del sud, in particolare la Sicilia, e per fortuna molto meno le zone dalle quali lei proviene, ma che producono un valore del vino eccezionalmente rilevante. In questi anni abbiamo avuto modo...